sempre proposti in questa sfilata dagli amici della ProLocor di Palunco. L'evoluzione degli errati segue di pari passo quella tecnologica dei trattori, ecco perché chiude la sfilata un potente trattore trainante, una rata più uomere, capaci di dissodare più soldi contemporaneamente, riducendo così i tempi di lavorazione. Ringraziando la ProLocor di Palunco e tutte le altre 44, ProLocor partecipanti vi salutiamo e vi diamo appuntamento al grande ristorante sulla piazza che offrirà a voi i 47 menu proposti dalle nostre 45 ProLocor e dalle 2 ProLocor ospitanti. Buona giornata a tutti e buon appetito, l'appuntamento è al prossimo anno.